Salve sono il dottor Stefano Di Biagio, sono un medico d'ontoiatra e mi occupo di estetica del sorriso. Oggi voglio parlarvi delle faccette estetiche mini invasive, quelle che si applicano senza dover limare i denti naturali per intenderci. Questa metodica consente di trasformare il sorriso delle persone in tre sedute e senza alcun fastidio per il paziente. La trasformazione del sorriso avviene mediante l'applicazione, sulla superficie esterna del dente, dei gusci in ceramica semi trasparenti, ultra sottili, dello spessore di una lente a contatto e molto resistenti. Il risultato finale sarà un sorriso più bianco e luminoso e il trattamento ha anche altri benefici estetici, per esempio la possibilità di poter eliminare le imperfezioni dovute alla forma dei denti rendendoli di fatto più dritti, al colore rendendoli più bianchi, o la correzione degli spazi tra un dente e l'altro. Si pensi ad esempio al diastema. Le faccette hanno anche dei benefici funzionali, infatti sono un guscio protettivo per i denti naturali andandoli a proteggere dalla loro erosione e basti pensare che chi soffre di bruxismo tende quindi a digregnare i denti durante il sonno. Consentono anche la risoluzione di menomazioni provocate ad esempio dalla patodontite o dalla piorrea. Il nostro protocollo richiede tre sedute. La prima, durante la prima seduta, effettuano una visita di controllo preliminale e prenderò le impronte dei tuoi denti senza fastidi attraverso uno scanner intraodale in 3D. Grazie all'impronta dei tuoi denti saremo in grado di realizzare un mockup, quindi un'anteprima a scopo illustrativo. Durante la seconda seduta e attraverso il mockup sceglieremo il colore e la forma che vorrai dare ai tuoi denti, realizzando anche delle foto del tuo sorriso. Nella terza e ultima seduta invece applicherò le faccette in ceramica sui denti naturali senza limarli, quindi preservandoli. Se hai bisogno di sottoporti a questo trattamento o semplicemente richiedere delle informazioni, scrivici. Ti aspetto.